Un selfie con gli uomini della Polizia Municipale e quelli della Protezione Civile di Cellole. Vai a Domizia per la precisione, ultima tappa di questo breve viaggio del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Castelvolturno e a Cellole, appunto, dove è stato inaugurato il cantiere per la videosorveglianza. Ma, tornando indietro, appunto, prima tappa, Castelvolturno, e il Ministro ha affermato. Siamo qui, innanzitutto, per ascoltare. Cosa possiamo fare per mettere in campo un'azione che è un po' mutuando quello che è successo in un passato, poi neanche tanto remoto. Io ricordo le azioni che furono fatte sul famoso modello caserta, l'abbiamo citato, quindi i deschi interforzi, i tavoli permanenti, all'epoca fu fatta, insomma, furono dati dei segnali molto importanti. Lungo comitato per l'ordine alla sicurezza pubblica nel centro addestramento per i carabinieri forestali di Castelvolturno. Sono analizzati uno per uno le problematiche del territorio, dalla presenza di numerosi manufatti edilizi abusivi da abbattere, ha precisato il Ministro, alla presenza di rifiuti che vengono sversati anche da fuori territorio, alla presenza di una criminalità minore che ha rialzato la testa nell'ultimo periodo, ma su tutti ovviamente il problema dell'immigrazione, soprattutto quella clandestina, e rispetto a questo il Ministro ha promesso che fare per passi progressivi ma costanti, quindi cominciare con operazioni che mettendo insieme demolizione di mobili abusivi e intervento su alcuni nuclei di immigrati irregolari, cominciare ad affrontare progressivamente i problemi fino ad una ferma risoluzione nel giro di qualche anno.